Questa pasta con crema di zucchine è sana, economica, veloce e leggera. Fatela con me. Iniziamo. Per prima cosa taglio grossolanamente le zucchine, poi le metto in un pentolino con l'acqua e dal momento del bollore faccio cuocere per 10-12 minuti. Dopodiché le passo nel bicchiere del mini peamer, aggiungo il basilico, il parmigiano, le mandorle, il sale, un filo d'olio, frullo e verso in padella la crema ottenuta. Dopodiché salo l'acqua e metto a cuocere la pasta. Ed un minuto prima della fine della cottura la unisco alla crema di zucchine e mescolando e facendo saltare faccio finire di cuocere ed insaporire bene. Poi, quando la crema si sarà asciugata un po' e la pasta sarà al dente, spengo ed impiatto. E guardate qua. Buon appetito!